Nel trentesimo della scomparsa di Natalia Ginzburg, che è morta nel 91, era nata nel 1916, grande scrittrice, una delle protagonisti della narrativa italiana del novecento, vale la pena di riprendere i suoi romanzi. Uno di essi, forse uno dei più celebri, è Caro Michele, che è ormai un classico della narrativa italiana, qui in una delle prime edizioni. Caro Michele è un romanzo epistolare, o diciamo meglio, un romanzo epistolare misto, perché ci sono moltissime lettere, strutturato lettera dopo lettera, ma qua e là si inseriscono anche brani di prosa in terza persona, quindi un romanzo epistolare misto. A ricevere soprattutto le lettere è Michele, che è un giovanotto che è dovuto… il romanzo è del 1973, siamo nel 1970-71 nella narrazione, questo giovanotto è dovuto scappare via dall'Italia perché è un po' implicato nei moti rivoluzionari, è un ribelle, è un po' un estremista, ma forse anche per altri motivi e lui riceve molte lettere, lui risponde poco, solo qualche volta, a scrivergli sono soprattutto i suoi di casa, dall'Italia, la madre che ha qualche complesso, perché è una madre quasi anaffettiva, molto egoista con i suoi problemi, una madre separata, le sorelle che gli vogliono bene, c'è una ragazza giovane che lui forse ha messo incinta, aveva avuto una relazione con Michele, il bambino comunque è nato, forse è figlio di Michele e poi c'è anche un amico molto affettuosamente, amico di Michele, insomma gli scrivono, si scrivono, ma tutto questo giro di lettere, come dire, è per vincere la lontananza geografica, ma è anche per vincere delle lontananze psicologiche che avvengono con questo giovanotto lontano, che poi non è tanto il protagonista, sì del titolo, è il destinatario delle lettere, ma non è tanto il protagonista del romanzo, i protagonisti sono soprattutto gli altri che si intrecciano tra di loro, tutti quanti insieme sono protagonisti appunto di una lontananza psicologica, di una incomunicabilità e queste lettere sono come messaggi in bottiglia, ma soprattutto la ricchezza di questo libro sta nel fatto che la Ginzburg, a parte i momenti narrativi scritti con una neutralità attentissima e con una grande forza di descrizione anche dei dettagli che conosciamo nella Ginzburg, ma a parte questo ci sono le lettere e le lettere allora sono il parlato, cioè lo scritto che rivela il parlato, cioè ognuno ha la sua gergalità, il suo stile, la sua sentimentalità in queste lettere, ognuno scrive all'altro ma parla anche di se stesso. È un mondo un po' grigio quello che la Ginzburg tratteggia, una borghesia un po' pasticciata, un groviglio familiare che non sa risolversi, dei rapporti che non riescono a scattare, poi c'è la dolce memoria perché i pochissimi momenti di felicità sono lontani, appartengono al passato e sulla memoria ho rubato una frase che è rivelatrice, la memoria è anche fatica, è piacere e fatica, scrive la Ginzburg la strana, gelida, desolata consolazione della memoria, cioè consolazione sì, ma ha bisogno di tre aggettivi strana, gelida, desolata, perché la memoria ha anche sofferenza. Caro Michele, un classico della narrativa italiana di Natalia Ginzburg.